Non se ne accorge raga, pensa che io sia FK e girato Vieni qua, vieni da zio Steve, zio Steve ti butta giù Non ci credo, ha funzionato ragazzi, ha funzionato al 100% Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video Degli Skywars Troll Come dite? Girati No, ma questa è la mia faccia ragazzi, questa è la mia schiena invece, guardate Questa è la mia schiena e questa qua invece è la mia faccia Sì ragazzi, sto facendo un troll con la skin capovolta La skin al contrario e vi assicuro che questo troll è veramente troppo epico Quindi dovete per forza arrivare a 3500 mi piace ragazzi Oh mio dio ragazzi, fa veramente stranissimo guardare la skin in questo modo E vediamo se riusciamo a trollare i nostri avversari Guardate, guardate, è semplicissimo Loro penseranno che io adesso, che queste siano le mie spalle Quindi verranno da me e diranno Oh mio dio, ora lo uccido, guarda non mi sta guardando Ora arrivo là e lo butto giù E invece no, lo arrivo Oh, che sta facendo quello? Vola Ma È morto Ma come è possibile? Allora facciamo una cosa, guardate ragazzi Guardate, è semplicissimo Mi basta mettermi così e aspettare che lui cerchi di uccidermi Faccio finta di essere FK ragazzi Guarda, è semplicissimo Ta-tan, 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 ta-tan Appena arriva qua lo butto giù Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua Vai giù, vai giù, vai giù Non ci posso credere, ha funzionato Oh mio dio, non ci posso credere ragazzi Non pensavo ci sarebbe cascato È vero che tu sei convinto che io sia FK Dai vieni qua, vieni a combattere Steve Vieni a combattere Zio Steve Vuoi venire? Ora viene, ora viene Guardate, guardate, guardate Non se ne accorge Non se ne accorge, raga Pensa che io sia FK e girato Vieni qua, vieni da Zio Steve Zio Steve ti butta giù Non ci credo Ha funzionato ragazzi Ha funzionato al 100% Perché loro pensano che io sia girato Oh mio dio Devo vincere per forza questa partita adesso Devo assolutamente vincere È caduto Ma come ha fatto a cadere? Ma come ha fatto a cadere? Da solo Completamente da solo Ed è caduto lo stesso Ma dai, ma non è possibile Ma stiamo scherzando Allora, facciamo una cosa ragazzi Facciamo una cosa Dobbiamo in qualche modo trovare Un ponte Ecco, tipo questo qua per esempio Perfetto In modo tale che facilitiamo la vita Ai nostri avversari Perché mi sembrano abbastanza tonti Sì Dai che vieni Dai che vieni Dai che pensi che Steve sia girato È vero che pensi che Steve sia girato Ti aspetto ragazzina Ehi Leaponi Leaponi Vieni subito qua Guarda qua C'è Steve girato C'è Steve girato Che sta guardando il muro Quindi è una kill facile Facile Devi soltanto venire Attraversare il ponte E Steve ti ammazza Oh Sta arrivando della gente ragazzi La ragazzina si è messa a paura Perché c'è troppa gente Guarda la ragazzina Che si è messa a paura Non sa cosa fare Sta pensando Cosa faccio? Da chi vado? Chi uccido prima? E tutti stanno ignorando Steve Ma vi rendete conto? Ma non è possibile Quindi se ha un arco Mi ammazza sicuro Se non ce l'ha invece È la fine per lui Eccolo Eccolo Guardate come vuole venire Guardate come vuole venire Ora viene Ora attraversa il ponte Sicuro lo attraversa Guarda 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 come arriva Guarda come arriva Sì sono FK L'hai capito bene Sono FK Vieni qua Vieni qua Sei morto Sei morto Non ci credo Ho vinto Oh mio dio Funziona al 100% Questo troll GG Ha scritto WTF Perché lui mi vedeva di spalle Ragazzi Oh mio dio Ma là c'è un uomo lava Ehi è finita la moda Del limestone challenge Che stai facendo Vediamo se l'uomo lava Vuole venire contro di me Anche se sinceramente Ne dubito tantissimo Uh quei due stanno combattendo Bene Bene ragazzi Allora sapete cosa Mi metto proprio qua davanti Sì 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 Ciao sono FK Sto guardando il muro Vuoi venire qua Vuoi venire a uccidere Steve FK Sì orsetto Mi hai visto Vuoi venire Sì che vuoi venire Ora si fa un ponte raga E guardate come lo butto giù Oh no cavolo L'uomo lava vuole venire Contro di me forse Sì 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 L'uomo lava vuole venire Guardate Guardate come vuole venire L'uomo lava Vai giù Uomo lava Ok Ora dobbiamo stare attento All'altro ragazzi Dobbiamo stare attento A questo qua Io ho poca vita Una spadata mi può uccidere Però mi sono preso La regeneration Perché ho ucciso una persona Devo continuare a stare FK Ragazzi Devo stare fermo Immobile L'uomo lava tra l'altro Non ha capito niente Di quello che è successo E neanche questo orsetto Ha capito Guardate ora come lo buttiamo giù Appena attraversa il ponte Ragazzi va giù 3 2 1 Vai 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 giù Vai giù Vai giù No Si è salvato Non ci posso credere ragazzi Non ci posso credere Se hai riuscito a salvare Allora questo lo dobbiamo uccidere Manualmente In qualche modo Lo dobbiamo ammazzare adesso E ma come però Mmm Ho un'idea Ho un'idea Continuo a salire in questo modo io Continuo a salire in questo modo Guarda quell'altro Che ha messo benissimo E mi vuole venire a uccidere Dai vieni qua Vieni pure da Kendall Vieni da Kendall Lo butta No Ancora vivo È ancora vivo È qua È qua Ora vai giù Ora vai giù Ora vai giù Ora vai giù E ti uccidi No L'ho ucciso però Oh mio dio Però se non altro Sono riuscito a uccidere L'uomo L'uomo orsetto E mi ha ucciso l'altro Nel frattempo Non ci credo Aveva quasi funzionato Guarda quell'Alex confuso Guardate quell'Alex confuso A destra ragazzi Che non sa che cosa fare E ora sta costruendo il ponte Secondo voi Verrà contro di me O andrà al centro Io ragazzi Ci posso scommettere Ci metto la mano sul fuoco Che questo Alex Verrà contro di me Vede uno Steve Oh mi vuole tirare le uova forse No non mi tira le uova Guarda quanto è carino Guarda quanto è carino Ragazzi Ora lo buttiamo giù Perché lui pensa che io sia girato Vieni qua Vieni dopo farino E boom Sei caduto Oh mio dio ragazzi Povero Alex Povero Alex Dai non vedo l'ora Che arrivi qualcun altro Da trollare Vi aspetto eh Quello è full ragazzi Quello è messo veramente benissimo Se viene qua e lo trollo Vinco la partita sicuro Oh mio dio Se ne è accorto Ha scritto troll Raga Ha scritto troll Devo fare finta di essere ancora FK E ora ti butto giù No la spada Aveva la spada di fire aspect No Oh lui ora verrà ragazzi Vi assicuro che lui ora verrà Guardate Mi ha visto Mi ha puntato E vuole venire Dai vieni qua Ti aspetto Ti aspetto Vieni nella mia trappola Vieni nella mia trappola Sei caduto Sei caduto Oh mio dio Ragazzi Non ci posso credere E ha scritto OMG Oh mio dio Come hai fatto Guardate quanto è lento A prendere una chest È da 40 minuti Che sta guardando quella chest Cos'è ti piace Te la vuoi sposare Quella chest Ora ce ne metterà altri 40 A prendere le altre Sicuramente E nel frattempo Ci abbiamo qualcuno dietro No dietro sembrerebbe Che nessuno Ci stia venendo a dare fastidio Quindi possiamo trollare perfettamente Il nostro Alex Ragazzi Sicuro ora lo trolliamo Mamma mia quanto sei lento Però Alex Dai datti una mossa per favore Datti una mossa Oppure glielo faccio io Ma sì glielo faccio io Perché sennò questo domani mattina Ragazzi che viene qua contro di me Ok ora gli abbiamo fatto il ponte Perfetto Ora cercherà di venire sicuramente Oh Forse quel prigioniero vuole venire Vedete che c'ha Le cose della prigione ragazzi C'ha la tutina arancione Della prigione americana Vorrà venire Secondo voi si sta prendendo soltanto il loot Non lo so Però Alex ci sta mettendo troppo Quindi quasi quasi vado a trollare il prigioniero Ok trolliamo il prigioniero ragazzi Stiamo qua davanti il prigioniero Davanti il carcerato Non vedo l'ora che viene contro di me Dai per favore Datti una mossa pure tu E vieni Dai che vieni qua Lo so che vuoi venire Lo so Ma c'ha anche lui la skin girata Ragazzi non ci credo Ho trovato mio fratello Ha la skin del creeper girata Non è possibile Non è possibile ragazzi Ho trovato un mio fratello Guardalo Sta facendo la mia stessa identica cosa Anche lui è girato ragazzi Notate che è girato E ha scritto Basta trollare un trollatore Siamo fratelli Siamo fratelli Siamo diventati fratellini ragazzi No Lo buttano giù No Ha buttato giù il mio amichetto E vuole venire con l'ender pearl Oh mio dio ragazzi Devo scappare Guarda 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 come lo butto giù lo stesso No Non è giusto Aveva l'ender pearl Dai ragazzi In questa mappa può funzionare Siamo troppo vicini Guardalo come vuole venire Guardalo come vuole venire Guarda che non ha capito niente Lui Vai giù vai giù Stupido Stupido che volevi trollarmi Non puoi trollare Kendall è impossibile E adesso direi di uccidere anche questo Steve A meno che vuole venire contro di me No se ne è andato al centro Va bene adesso lo andiamo a uccidere Allora ragazzi Io se riesco a fare un altro troll Nella stessa partita Impazzisco Perché non è semplice Cioè farne più di uno Guarda Steve Steve che stai facendo Dammi tutta la tua corazza Che ti sei preso per favore Serve di più a me Che a te Oh mio dio Perché No è caduto Ma dai ma come fa la gente a cadere in questo modo Ma sono dei salamini ragazzi Ma sono proprio dei salamini Com'è possibile che cadano in questo modo stupido Uffa Oh È un aerobrine Non è Steve Ok ora lo trolliamo Aerobrine Mamma mia ragazzi Ho rischiato tantissimo Dai che riesco di nuovo a fare il troll Guarda che lui vuole venire direttamente contro di me Ma sta facendo la mia stessa tattica ragazzi No non sta facendo la mia stessa tattica Ora ti butto giù eh Io aspetto soltanto che avvieni Oh mio dio quanto laggi Quanto lagga Oh mio dio Per fortuna l'abbiamo buttato Si era fermato per guardare la mia skin Ha pensato Ma perché questo è girato Ma che sta facendo Si era fermato E per fortuna sono riuscito a ucciderlo Ok Bene Uno l'abbiamo trollato Ora non dobbiamo fare altro che trollarne almeno un altro Per completare la missione di oggi Dai venite qua Venite da Paperino Kendall E quello si sta facendo buttare l'omino rosa Ehi Steve non ti fare buttare da uno stupido così Che usa le palle di neve Hai capito? Oh E' una battaglia ragazzi tra uova E' una battaglia tra uova Siamo al supermercato Oh mio dio E' quello che fa Mi ha guardato E ho detto Oh ma quello è girato Ok allora non mi devo preoccupare di lui Ora posso andare a uccidere questo rosino Appena si ammazzano tra di loro ragazzi Vi garantisco Che uno di loro cercherà di venire contro di me Per uccidermi Sicuro al 100% Steve mi sta puntando raga Steve mi guarda Steve Steve ti sei innamorato? E' per questo che mi sei guardato Forse sei innamorato ragazzi Oh mio dio Forse l'ho fatto innamorare Forse vuole essere il mio fidanzatino No Steve Non possiamo essere fidanzati Perché io ti devo trollare Oh mio dio Steve è caduto Va bene Meno uno Dai vieni qua Vieni contro di me Vieni contro di me adesso Dai che sono qua Sì guardatelo Guardalo guardalo Mi ho salutato Ciao Ciao pure a te Io non mi posso muovere Perché sennò te ne accorgi Però ti saluto tanto tanto Guardalo guardalo come vuole venire Ora mi giro un pochettino così Sì ok speriamo che non se ne accorto raga Speriamo che non se ne accorto Quell'altro che sto facendo? No rovini i miei piani Che fai? Ma poi c'ha la mia skin C'ha anche la mia skin quasi C'ha la mia faccia No smettila Che rovini i miei piani Aspettate mi nascondo qua Perché sennò quello mi butta giù poi con l'arco Con l'arco e le palle di neve Oh mio dio ma è velocissimo Come fa ad essere così veloce? Porca miseria ragazzi Eh dai però mi stai rovinando il troll Te ne vuoi andare per favore? Devo trollarlo Che fa? Oh mio dio Ma è un hacker Forse è un hacker ragazzi È stato riportato indietro dall'anticit Vediamo È un hacker ragazzi Oh mio dio Secondo voi riesco a trollare l'hacker? Oh è troppo furbo Se fai il ponte in alto non ce la faccio E invece forse sì No non ce la faccio perché hanno knockback Ma dai è un hacker Non è giusto Ragazzi spero vi sia piaciuto questo video Sinceramente io mi sono divertito tantissimo Lasciate un mi piace E condividetelo con tutti quanti i vostri amici Per vedere degli altri video troll Qua nelle Sky Wars Da Kendall è tutto E noi ci vediamo domani con un prossimo video Ciao